Per chi percorre via della Croce Rossa di notte, le mura urbiche, recuperate e illuminate, si aprono maestose e magiche. Un bel menuto all'ingresso cittadino, unindo al ritorno alla vita. La cinta muraria dell'Aquila è una delle più estese d'Europa, sicuramente tra i pochi esempi in Italia, di fortificazione trecentesca quasi integralmente conservata. Ed è il primo monumento che la passata amministrazione volle subito recuperare dopo il terremoto del 2009. Ma tanti sono stati danni comunque provocati, essendo un'opera realizzata a sacco nel 300. Primi interventi di restauro, consolidamento e valorizzazioni già conclusi a opera della superintendenza. Oggi le mura della città presentano dunque dei tratti meravigliosamente recuperati e percorribili a piedi, grazie a un primo stanziamento di 8 milioni di euro dai fondi PORFERS europei e altri 3 milioni e 300 mila euro stanziati con la delibera Cipe numero 43 del 2012, che hanno permesso un importante stralcio di lavori di restauro. Ma gli interventi da fare sono ancora tanti e se ne sta occupando la superintendenza dell'Aquila insieme al segretariato MIBAC, che per l'occasione è stazione appaltante. Tra gli interventi in progetto, quello dell'illuminazione dell'intera cinta muraria e la valorizzazione dell'opera. Lo stesso sarà anche per Viale 25 Aprile, i lavori di sistemazione dal punto di vista strutturale sono completati ormai da più di due anni e manca soltanto l'inserimento delle lampade per l'illuminazione, quindi la predisposizione. L'obiettivo è intanto di illuminare l'intera cinta, quindi quest'anello, che ricordiamo è uno dei più grandi, la cinta medievale, fra le più grandi d'Italia, forse anche d'Europa, illuminandole, quindi rendendole visibili dal circondario e non solo facendo dei passaggi pedonali, come abbiamo già fatto su Via 25 Aprile e sul tratto con l'uscita da Porta Brinconia, con dei passaggi pedonali. Questo dove chiaramente l'orografia ce lo permette, perché ci sono dei tratti con pendenze eccessive e particolari per cui sarebbe la cosa complessa. Grazie ai 5 milioni di euro stanziati poi da un ulteriore delibera Cipe nel 2018, entro i prossimi due anni la soprintendenza conta di poter restituire alla città tutta la parte mancante delle mura. Mancherebbe la parte che rimane a ridosso dell'ex ospedale San Salvatore, anche perché lì ci sono dei problemi legati alla vecchia struttura ospedaliera, che in alcuni casi rimonta addirittura proprio su alcune torri della cinta muraria. Per cui lì bisognerà un attimino capire anche col fatto che adesso la struttura è stata presa dall'università, c'è un progetto in itinere che prevede anche la sistemazione a monte nella parte interna, addirittura si parla anche di un auditorium ipogeo, insomma molto capiente. E quindi va un attimino vista, insomma siamo nelle fasi conclusive, stiamo concludendo il tipo di progetto proprio in relazione all'uso che si farà di questa struttura. Poi si dovranno prevedere altri interventi nella zona verso il viale di Collemaggio.